Muoversi. Infomobilità in Campania. Sulla 2 del Mediterraneo, sino l'11 maggio, per lavori ridotta la carreggiata dalle 8 alle 18, tra le uscite con Tursi, Terme, Postiglione e Campania in direzione Salerno. Sulla statale 7 bis, terra di lavoro, dalle 8 alle 17.30 ridotta la carreggiata tra Casal di Principe e Carinaro, in entrambi i sensi di percorrenza. Sulla tangenziale di Salerno, restringimento di carreggiata sino le 18 di oggi, tra Salabagnano e Fratte, in direzione Fratte. Sempre su quest'arteria, sino al 17 giugno, è ridotta la carreggiata tra San Leonardo, Ospedale e Zona Industriale, in entrambe le direzioni. In chiusura a Napoli, sino al 25 maggio, viene chiusa la rampa di uscita di Via Caldieri dello svincolo omomero della tangenziale di Napoli. Dalla redazione Muoversi, Valeria Baldanza. Servizio a cura di Acamir e Regione Campania.